Salve! Pioggia permettendo vi passo gli ingredienti della pasta con le sarde che troverete giovedì sul mio canale YouTube. Sono le sarde, la finocchiella cotta, cipolla o scalogno, pinoli e ovetta passa, alicette, pomodoro, bucatini e l'acqua nella quale ho cotto la finocchiella. Questa ricetta la troverete su Camper Life e per il momento vi aspetto, quindi giovedì, per fare la ricetta insieme. Buon appetito e alla vostra!